Allora, piccola presentazione su Madoka Magica e come io mi sono approcciato a questo anime. Dovete sapere che Madoka Magica, secondo me, è definibile una sorta di serie cult, una sorta di anime proprio pilastro che prima o poi va visto, proprio uno di quelli che praticamente tutti ti consigliano. Se hai visto un minimo di anime, intendo dal centinaio in su, secondo me questo deve entrare di diritto nella top 100 anime che uno si vede, perché è veramente molto molto bello. Io l'ho visto, qua ho segnato 2019, potrebbe essere giusto. Sì, potrebbe essere che l'ho visto nel 2019, quindi parliamo di quattro anni fa. Fa parte ovviamente di quella categoria come Devilman di anime che non mi ricordo, perché insomma quattro anni fa io me li vedevo sul letto, sullo schermo, cioè sullo schermo del telefono. Non è che proprio andavo a cogliere ogni minima roba, ogni singola cosa, però ovviamente alcune cose le so, tipo so chi è il principale villain della serie, so una cosa legata a questo personaggio qua, a Omurakemi, che è un personaggio abbastanza misterioso per quanto riguarda l'intera serie. Diciamo, mi ricordo le cose principali per quanto riguarda Madagascar, ma tutto il resto lo ignoro, sinceramente non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo neanche a livello qualitativo com'è, quindi per quanto mi riguarda sarà una cosa simile a Devilman, ovvero una bella esperienza, cioè un bel rewatch, che a distanza di quattro anni e mezzo secondo me merita di essere fatto, e quindi sì, questo è quanto. Ora, per chi non sapesse cos'è Madoka Magica, dovete sapere che è un anime che parla di delle ragazzine che diventano delle maghette magiche, questo è un po' l'anime che ha reinventato il concetto di Mao Shoujo, ovvero di ragazzina che diventa una maghetta, che fino a prima di Madoka Magica, da quello che so, era sempre inteso in maniera gioiosa, bellina, le maghette magiche tutte sbrillucicose, carine e coccolose, Madoka Magica invece ha buttato dentro un pochino di dark fantasy per rendere queste maghette non per forza belle, carine e coccolose, ma anche abbastanza inquietanti e creepy. Infatti, vabbè, voi leggetevi la trama se vi interessa, io comunque vi posso dire che questo anime è un... alla fine penso possibile definirlo un dark fantasy, horror, ci sono cose un pochino inquietanti, non me le ricordo neanche tutte, sinceramente, però non è così carino come appare, appunto anche se andiamo a vedere nei generi, abbiamo azione, drammatico, fantasy, maoshoujo, psicologico, thriller, ci stava anche horror su Anime Click, i tag sono magia, strega, urban fantasy, filosofia, c'è molta filosofia da quello che so in questo anime, coming of age, cast di bambini, ensemble cast, urban, kudere, tomboy, school e archery. Diciamo che l'anime che si avvicina di più a questo, se non avete visto Madoka Magica, ma se siete comunque un pochino navigati per quanto riguarda gli anime che sono usciti negli ultimi anni, è Wonder Egg Priority. Cioè diciamo che se una persona che ha iniziato a vedere anime da pochi anni, dovessi dire a cosa assomiglia di più Madoka Magica, Wonder Egg Priority. Molto simile a Wonder Egg Priority per molte cose. Poi no, in realtà Made in Abyss sinceramente non lo conterei. Wonder Egg Priority per la maggior parte è quello che lo trovo un po' più simile. È uscito nel 2011, quindi è abbastanza vecchio sto anime, sì, più di dieci anni fa, però vediamo se a distanza di più di dieci anni riesce a tenere botta come appunto serie cult di questa tipologia. Ha dodici episodi e basta. Dodici episodi più un film e mi pare che non c'è nient'altro, perché ci dovrebbe essere una serie spin-off, una serie alternative che però non dovrebbe centrare con la storia principale di Madoka. Quindi la storia principale di Madoka Magica è questa serie che ci vedremo oggi, che sono dodici episodi, oggi ne vedremo sei, settimana prossima vedremo gli altri sei, e il film sequel che è questo qua, Rebellion, la terza parte di questa tipologia, di questa trilogia di film. I primi due sono di Recap, il terzo film, Rebellion, è un sequel di Madoka Magica. Quindi questo è tutto quello che c'è da sapere su Madoka Magica. Se voi avete altre domande o cose da chiedere, ditemelo, altrimenti possiamo cominciare. Hanno annunciato un film nuovo tre anni fa e non si sa ancora un cazzo. Ah, interessante, interessante. Tra l'altro questo anime, regà, è fatto da l'unico inimitabile, incredibile, fantasmagorico e qualunque cosa, qualunque aggettivo positivo gli posso dare, Studio Shaft. Cioè, regà, questo qua è un film, una serie fatta da quei mostri incredibili di Studio Shaft che negli ultimi anni ci hanno riservato proprio una quantità incredibile di anime bellissime. Quindi tanta roba, tanta roba Studio Shaft. Ci sono le ragazzine, mi hai convinto. Ah, allora, non vi dirò il voto che ho dato a questa serie e anzi, farò una cosa, lo... Vabbè, in realtà, dai, non ha senso nasconderlo, non ha senso, però non vi dirò il voto che ho dato a questa serie perché, comunque, quando l'ho vista mi era piaciuta abbastanza. Vedremo se si confermerà o se addirittura lo alzerò o se lo abbasserò il voto. Stiamo a capire, stiamo a capire. Stiamo a capire. Detto questo, quindi, signori, io direi che possiamo... possiamo cominciare. Senza ulteriori indugi. Lo vedremo in italiano. Perché in italiano? Perché la versione subita è in qualità non molto bella e anche perché, sinceramente, ogni tanto vedersi un anime in italiano direi che ci può stare, da. Che problema c'è. Poi sì, non credo che ci sia altro da dire. Potremmo andare a vedere il creatore, questo Magica Quartet, che è una collaborazione tra lo staff di Matoca Magica e la sua versione movie. Originale, infatti, infatti, infatti. La source è original, però non ho ben capito cos'è questa collaborazione. forse, vabbè, semplicemente un anime original creato da varie persone. In Ita, tolgo la sub, insomma. Questo è il character designer che ha fatto tanta roba molto bella e principalmente Matoca Magica. Andiamo a vedere le musiche, perché le musiche sono molto importanti in questo anime. Non i personaggi, andiamo a vedere lo staff. Eccolo qua. Yuki Kajura, che ha fatto Matoca Magica, ha fatto una parte di Sword Art Online, Demon Slayer, Vanitas, sempre Demon Slayer, Lord Elmelloi, Faistay Knight, Erased, diciamo che se la cava, se la cava, Yuki, Yuki Kajura. Ok, quindi, parliamo un po' di Matoca Magica. Parliamo un po' di Matoca Magica, che è decisamente stato interessante, questo, questo primo tralcio di episodi. Da quattro gianni, male male. E no, ma è letteralmente così. Cioè, io, io fossi il loro, chiederei. Cioè, tipo, cos'è la Soul Gem? Ma è una cosa molto banale. Cos'è la Soul Gem? Yuki gliel'avrebbe spiegato se gli avessero chiesto cos'è la Soul Gem. Invece no, diventano delle maghette e dicono, ah, che bello, sono diventato una maghetta. E muori allora, cogliona. Non ti lamentare se poi, per sbaglio, calpesti la tua Soul Gem, la mandi in mille pezzi ed esplodi con essa. È colpa tua. Voto all'episodio? Guarda, ti direi, voto a questo episodio, l'episodio sei, probabilmente otto e mezzo. Comunque stiamo raggiungendo dei livelli più alti rispetto all'inizio. Quindi sì, se vi devo fare un raffronto dei voti, anzi, prima in realtà parliamo in generale della serie, ovvero, come inizio, bello. Assolutamente bello. Primi sei episodi molto fighi, sinceramente non... Forse l'episodio più noioso è stato il due, quello un pochino più, un pochino meno interessante, però per il resto tanta tanta roba che gli devi di... Cioè, a cominciare dall'inizio in cui già vediamo una prima maga in particolare Umura, poi l'episodio tre, che sinceramente non ricordavo minimamente che succedesse all'episodio tre, questa cosa, ovvero la morte di... di Mami per mano di questa strega qua, di questo mostro, che, devo dire, quando l'avevo visto tempo fa effettivamente mi aveva colpito molto che già così presto moriva Mami che in realtà veniva presentata come una strega molto forte e anche una delle streghe principali che avrebbe dovuto fare squadra con Madoka e Sayaka. Poi, in realtà, per quanto riguarda gli altri... Quindi, se vogliamo parlare dei primi tre episodi, i primi tre episodi sono principalmente introduttivi, spiegano un po' cosa sono le maghe, abbiamo questa sorta di sessione, di tutorial da parte di Mami che poi muore malamente e inizia il vero Madoka Magica, in effetti, dopo questa... dopo questa prima parte. e poi, andando dall'episodio quattro in poi mi pare che già nell'episodio quattro compaia... abbiamo qualche approfondimento su Omura e compare la tizia roscia alla fine del quarto episodio. Sì. Alla fine del quarto episodio compare la tizia roscia che praticamente diventa l'antagonista di questo arco qua. Infatti ce la portiamo avanti quarto, quinto e successivamente sesto episodio. Sì, sì, sì. devo dire che attualmente il personaggio di Madoka lo reputo come una sorta di non direi personaggio secondario però capite bene che è una spettatrice. Cioè Madoka attualmente si limita a fare la spettatrice perché non ha né gli strumenti né la forza di volontà necessaria per fare qualcosa. Anche perché in realtà interviene sempre Omura. Se ci fate caso proprio il rapporto comunque il personaggio di Omura che sarebbe lei attualmente dove sta? Attualmente il personaggio di Omura lo reputo il personaggio più interessante di tutta la serie perché è misteriosa. Già sembrava nel primo episodio di conoscere Madoka non sappiamo bene quali sono le sue intenzioni arriva sempre nel momento giusto quando serve e salva ogni volta Madoka dal diventare una maga. Cioè perché ad Omura da quanto ho visto non gliene frega veramente un cazzo di qualunque altra cosa se non di Madoka. Cioè le uniche volte che Omura è intervenuta era per evitare che Madoka diventasse una maga o che morisse una delle due cose. Quindi sì a quanto pare a Omura interessa molto Madoka abbiamo anche scoperto una cosa interessante che non mi ricordavo ovvero che il potere da maga è influenzato dal tuo desiderio. Cioè il desiderio che esprimi per diventare maga ovvero nel caso di Sayaka lei aveva espresso il desiderio di salvare di curare le mani del suo ragazzo del suo quasi ragazzo e questa cosa ha fatto in modo che i suoi poteri da maga diventassero dei poteri che le permettevano di guarire più in fretta quindi in realtà non è tanto cioè la vedo come se fosse una passiva cioè un potere aggiunto un bonus cioè il desiderio che esprimi ti fa avere un bonus quando diventi una maga però o comunque un potere sì non saprei come definirlo perché ad esempio scusatemi nel caso di di Mami qual era il suo potere? Perché Mami combatteva con le pistole però non mi pare di aver visto nessun potere particolare Sayaka combatte con la spada e come potere secondario come potere principale vabbè ha questa cosa della cura Omura se vi dovessi dire che potere ha Omura sembra quello di teletrasportarsi perché letteralmente Omura sì quando si muove l'abbiamo visto anche nel sesto episodio sembra che si possa teletrasportare mentre per quanto riguarda la roscia non si sa per quanto riguarda la roscia attualmente non si sa cosa può fare è un po' ambigua la sua anche se ha un'arma molto figa posso dirvi comunque un'arma interessante i nastri ah è vero è vero la bionda aveva i nastri aveva quel potere dei nastri che poteva bloccare le persone l'abbiamo visto nel terzo episodio nel terzo episodio prima di morire aveva bloccato Omura qua ecco qua ho beccato la scena perfetta aveva bloccato Omura con i nastri quindi sì aveva questo potere dei nastri la roscia non si sa attualmente non mi pare di aver capito quale potere può avere lei a domani per Jeff a domani conosce i nomi di tutte prima che si presentino è vero è vero quindi in realtà lei Omura ha attualmente il personaggio più interessante sembra nascondere qualcosa su come fa a conoscere tutte loro quindi se chiedevi soldi infiniti lanciavi tipo carte di credito al posto di usare i fucili beh in effetti forse no l'arma non mi pare che sia collegata cioè l'arma non mi pare che sia collegata in nessun modo quindi forse se chiedevi di avere dei soldi infiniti il tuo potere da maga quale cazzo poteva essere bella domanda non lo so sinceramente non lo so e il potere dello stalking no lei penso che si possa trasportare semplicemente da quello che abbiamo visto poi ripeto attualmente il personaggio di Kyuubi è palesemente palesemente un pezzo di merda o se non è un pezzo di merda è una sorta di dio di essere superiore che comunque ignora cioè non ragiona come ragionano è un colpo che si era abbassata la canzone pensavo se fosse successo qualcosa è comunque un essere superiore che non ragiona come ragionano le persone normali come gli esseri umani normali e probabilmente è più interessato a raggiungere l'obiettivo che a come lo raggiunge cioè se muore qualcuno a lui non gliene frega niente se succedono cose brutte a lui non gliene frega niente basta che gli portano i suoi cazzo di come cavolo si chiamano manco mi ricordo però si è molto particolare la sua figura vuole a tutti i costi che Madoka diventi una maga probabilmente perché Madoka ha un potere particolare che a lui farebbe comodo e è ambiguo è un personaggio ambiguo anche il fatto il semplice fatto che lui raccoglie tutte le cose delle streghe per carità si è presentato comunque teoricamente un alleato cioè perché alla fine la cosa che non possiamo escludere è che le streghe sono malvagie cioè su quello non ci sono dubbi le streghe sono malvagie fanno suscitare le persone uccidono le persone quindi quello ok però Kyubi è un po' ambiguo alcuni di voi dicono che potrebbe essere la strega suprema over Jeff lo diceva in realtà sarebbe una teoria interessante potrebbe essere che lui in realtà è una strega che sta raccogliendo le anime di tutte le altre streghe per diventare potentissimo per rinascere magari che cazzo ne so potrebbe essere una cosa del genere poi in questo episodio hanno anche parlato del Omura e e la e vabbè la tizia con i capelli rossi hanno parlato del di un evento che sarebbe accaduto tra due settimane in cui probabilmente arrivava sta strega suprema quindi scopriremo se è Kyubi o no nei prossimi episodi sicuramente se Kyubi è una strega boh o comunque se è in combutta con le streghe in qualche modo e per il resto sì cioè vi devo dire che è bello la qualità è molto buona per adesso mi piacciono disegni animazioni sono di alto livello le colonne sonore sono molto belle concordo su quello che hanno detto alcuni di voi che spammano sempre le stesse colonne sonore è un po' un peccato cioè le sentiamo molto spesso le due tre in particolare ogni episodio quasi le sentiamo e perdono un po' di effetto è un po' come per Call of the Night Call of the Night la prima volta bella la seconda volta bella la terza volta bella la quarta pure la quinta sesta settima ottava volta che hanno rimesso la solita colonna sonora mi era un po' cagato il cazzo per quanto era bella come insert song quindi sì forse avrebbero dovuto variare un po' di più o comunque non mettere in ogni episodio le migliori colonne sonore che avevano nel repertorio poi vabbè per quanto riguarda questa roba finale del corpo immortale sinceramente dovevano solo chiedere cioè i cubini da quello che vedo non ha problemi a nascondere robe probabilmente in realtà qualcosa la nasconde però tutte le robe inerenti il funzionamento delle maghe in realtà se loro lo chiedono lui lo dice senza problemi a meno che non dice cazzate a meno che non sta dicendo tutte menzogne però non mi dà l'impressione che uno che se glielo chiedi come funzionano i soul fragment o come cavolo si chiamavano non te lo dice quindi quindi sì cioè non vedo niente di male in questa cosa che la la tua anima viene messa all'interno della soul gem e il tuo corpo diventa essenzialmente loro dicono uno zombie però in realtà diventi praticamente immortale quindi io avrei fatto semplicemente più domande a cubi poi non so voi trasformare i soldi in armi ah è vero ci sta ci sta ah la notte di valpurgis sì nome strano fammi vedere se lo trovo se cerco valpurgis magari è collegato a qualcosa di interessante la notte della valpurga era un'antica celebrazione pagana della primavera tipica dell'europa centrosettentrionale mi sa che comunque una cosa ha infatti l'attesa di una catastrofica strega chiamata notte di valpurgis quindi si comunque è collegata con la cosa delle streghe che poi in realtà no perché qua c'è scritto al centro della serie animata di Madoka Magica sì e adesso dato che vi ho detto comunque un po' di cose diamo i voti agli episodi velocemente e leggiamo le cose che ha scritto Egy Games riguardante gli episodi non è lunga non è una roba lunga però le leggiamo perché penso siano molto interessanti allora all'episodio 1 di Madoka Magica io darei un 8 all'episodio 2 di Madoka Magica io darei un 7,5 all'episodio 3 dove sta? eccolo qua all'episodio 3 di Madoka Magica mi pare è quello là in cui muore è quello in cui muore Mami 9 meno mi è piaciuto come episodio un 8,75 glielo darei all'episodio 4 e un 8 più che cazzo qual era l'episodio 4? no forse all'episodio 4 un 8 non mi pareva chissà cosa sì nel senso no 8 dai cioè forse forse 8 più no vabbè dai l'episodio 4 8 all'episodio 5 forse 8 più e all'episodio 6 su questo non ho dubbio 8,5 almeno un 8,5 glielo do quindi comunque per ora per quanto mi riguarda è una serie che gravita intorno all'8,5 il voto per stasera è qua per ora per quanto mi riguarda sarebbe un 8,5 poi adesso non mi metto a fare i calcoli perché ci stiamo due ore quindi i calcoli per il vostro voto me lo faccio me lo faccio dopo intanto mi segno il mio ora leggiamo leggiamo la cosa che ci ha scritto Egy Games allora introduzione a un primo sguardo Madoka Magica potrebbe sembrare un classico anime maushojo chiamato anche Magiocco genere famoso per serie degli anni 90 come Sailor Moon e Cardcaptor Sakura la realtà è molto diversa l'anime si presenta nei primi episodi come una serie Magiocco normale per poi far immergere lo spettatore in qualcosa di completamente inaspettato proprio dopo la fine del terzo episodio la serie inizierà a mostrare il suo vero aspetto non più una serie carina e coccolosa bensì un anime veramente profondo e riflessivo allora per ora in realtà profondo e riflessivo non sto notando molto posso dirti nel quarto, quinto e sesto episodio a parte forse una conversazione tra la madre e Madoka la madre di Madoka e Madoka non mi pare che ci sono state conversazioni o cose così pregne di significato il numero di simbolismi e tematiche filosofiche questo invece vedremo che verranno mostrati nella serie sono talmente ampie e complesse da farmi desistere da portare un'analisi completa mi limiterò a scrivere dei temi filosofici centrali della serie simbolismi e discussioni principali o simbolismi e citazioni in Madoka magica a primo aspetto non sembra in Madoka magica ma ci sono molti simbolismi molti legati al mondo germanico e centro europeo infatti sapete che cosa ho notato che gli sgorbi i mostri di Madoka magica nel secondo episodio mi pareva che parlavano tedesco cioè mi sembrava proprio dal tipo di parlata che avevano i mostri che sembravano tedeschi questo però potrebbe essere che ho sentito male questo verrà alla luce non solo dai nomi che verranno attribuiti alle varie streghe infatti i nomi delle streghe mi sa che sono tedeschi ma anche dalle varie scritte in tedesco e si noteranno infatti la base del simbolismo di Madoka è un'opera ottocentesca il Faust dello scrittore filosofo tedesco Gott nel quale un uomo di nome Faust fa un patto con il diavolo un patto con il diavolo nel quale infatti nell'anime vengono riportati interi passi di quest'opera sia in forma scritta sia nelle azioni compiute dai personaggi forse molti di coloro che hanno già visto la serie non si sono nemmeno accorti di queste scritte il motivo è perché la maggior parte non sono scritte nell'alfabeto latino bensì in un sistema runico creato apposta per la serie esatto infatti non si capisce un cazzo quando fanno vedere i nomi delle streghe episodio 2 la mattina dopo gli eventi dell'episodio 1 Madoka si sveglia pensando che tutto sia stato solo un sogno poi si accorge che Qubi la sta osservando cosa analoga succede nel Faust dove il protagonista il giorno dopo li incontrano il diavolo credeva che tutto ciò fosse stato un sogno una delle citazioni di Kot più visibili all'interno della serie si trovava proprio nell'episodio 2 infatti questa cosa l'avevo vista questa scritta strana quando Sayaka Mami e Madoka entrano nella barriera della strega questo discorso non viene nemmeno mascherato scrivendo il runico bensì lasciandone la sua versione tedesca originale ha ossaltato una pagina non del più potente ciò consente di applicare il testo a qualsiasi ragazza magica a questo proposito il testo rispecchia il modo in cui Qubi a volte fa appello all'ambizione delle ragazze facendole sentire speciali per indurle a stipulare un contratto dentro la barriera della strega sono visibili ritagli contenenti altre citazioni del fosto in tedesco ok ok eh sì infatti ha l'episodio 1 come si vedrà in seguito l'anima di Madoka avrà un ruolo molto importante nella serie dopo che Madoka e Sayaka scappano da Omura si vedono 4 Antonis questo qua ripeto sempre episodio 1 cioè dei Minion che parlano o cantano muovendo flussi di rune che sono una citazione del fosto di Got questa citazione un incantissimo di base ha mostrato a Fossa durante la sua prima visita a una strega allora diciamo che in realtà per ora tutte queste citazioni dei primi due episodi sono semplicemente appunto delle citazioni inerenti a questa opera da cui è tratta Madoka è tratta Madoka magica quindi non ci vedo niente di così incredibile per adesso allora andiamo all'episodio 8 oh episodio 3 apici della felicità Madoka e Fossa dopo aver fatto la promessa di combattere come amica di Madoka ma mi pensa pensa è la prima volta che sono così felice mentre combatto poco dopo muore in modo atroce una cosa simile la si può trovare nel Fost con l'accordo del protagonista è Mephistofele se dovesse mai raggiungere il massimo stato di felicità possibile per l'umanità morirebbe immediatamente sarebbe consegnato all'inferno episodio 4 una frase che appare in tedesco con scrittura runica è non mi piacciono gli sciocchi ok dentro questo televisore che significa sciocco può riferirsi qui agli esseri umani potrebbe significare l'antipatia della strega per gli esseri umani nel Fost Mephistofele il diavolo critica gli umani perché pensano che il loro microcosmo assomiglia al mondo intero in quanto non sono generalmente consapevoli di fantasmi e demoni nella serie gli esseri umani normali non possono vedere le streghe o cubi ok andiamo avanti screenshot 9 comunque grazie Aki Games per l'approfondimento ultimi due episodi mentre ascolta Kamijo suonare Sayaka pensa sono la più felice che possa esistere in questo momento proprio come Mami e quindi vuol dire che morirà malissimo Sayaka era il punto più alto della sua felicità e infatti proprio da qui inizierà la sua caduta verso l'oscurità e insomma Sayaka cosa sei alla fine dell'episodio se Kyoko avesse colpito la sua Soul Gem Sayaka sarebbe morta questa possibilità viene scongiurata dall'intervento di Omura l'episodio 6 che è l'ultimo Omura afferma che una notte di Walpurgis arriverà in questa città da due settimane in Germania la Walpurgis la notte tra il 30 aprile e il primo maggio è la notte in cui si ritiene che le streghe tengano una grande festa in montagna e attendano l'arrivo della primavera varianti di questi miti affermano che le streghe fanno baldoria con i loro dei ok comunque queste qua sono tutte cose interessanti abbiamo finito perché ovviamente arriviamo fino all'episodio 6 sono cose molto interessanti però sono in realtà tutti i riferimenti tutte reference riferite al Faust di Gott quindi comunque a un'opera all'opera dalla quale è ispirata Madoka Magica quindi di certo sono cose interessanti però a livello filosofico per ora non hai tirato fuori cose magari te ne uscirai con gli ultimi episodi diciamo che per adesso non mi è parso di vedere cose filosofiche incredibili in questa serie se non magari qualcosa legato al personaggio di Madoka per come si comporta per il suo ripeto essere non non in grado essenzialmente cioè proprio essere impotente di fronte a tutto quello che sta succedendo però vedremo vedremo con il finale della serie quando magari la situazione si farà anche un pochino più particolare mettiamola così ci sta anche un video di di morte bianca tanto odiato da molti di voi non sa perché che mi pare che parla proprio della filosofia Madoka Magica però vedremo un pochino